Il raddoppio del Gottardo non farà che aumentare il traffico lungo l'arco alpino e avrà quindi delle gravi conseguenze proprio in Ticino, dove abbiamo già un'alta densità di traffico motorizzato, in particolare a sud di Lugano, vediamo come giornalmente le strade sono intasate, porterà un aumento di inquinamento, perché un aumento del traffico porta più inquinamento e quindi ci saranno delle gravi conseguenze sia per l'ambiente ma anche per la salute delle persone ci sono degli studi recenti che mostrano non solo che i picchi di inquinamento in Ticino sono molto alti ma che ci sono appunto delle conseguenze dovute a questo inquinamento atmosferico per la salute delle persone che vivono in particolare nel Mederisiotto.